benvenuti a legends e stavolta legends è in trasferta in un certo senso perché siamo noi a casa di una leggenda non poteva essere diversamente un po come dire che la montagna va da maometto la nostra leggenda di oggi è luis vinicio per me veramente è un privilegio essere qui sono davvero emozionata perché sono dalla leggenda delle leggende insomma lei è davvero uno mito del calcio e le faccio la mia domanda diritto la prima domanda che facciamo tutti da lui bambino quando scoperto che sarebbe diventato il grande vinicio prima di tutto la ringrazio per le parole nei miei confronti naturalmente io sono stato un ragazzo venuto dal brasile senza sapere il futuro che cosa era perché è tutto è venuto fuori in maniera molto tranquilla perché molto giovani sono andate da della mia città bello orizzonte a rio da rio al bottafogo che entra intrapreso un grosso viaggio in tutta europa e sperando qua in europa sono rimasto a napoli perché una partita napoli e c'è stato questa questione che sono stati acquistati anche da napoli e lì è cominciato la mia giornata diciamo così italiana ecco lei ha citato il bottafogo perché la sua grande carriera calcistica inizia in brasile con il bottafogo che insieme a garincia e dino da costa lei compone un trio d'attacco formidabile che diventa veramente uno che dei tri di attacco più più forti no per la storia del calcio del brasile che ricordi ha di quegli anni naturalmente in cui da subito diventa appunto uno degli attaccanti più importanti per il brasile no io naturalmente in brasile non è che abbia fatto una figura ma perché sono venuto via subito molto molto presto e non ho avuto l'occasione di essere diciamo così tanti anni in brasile e naturalmente mi è cominciato subito la storia in napoli perché se voi vi ricordate la prima partita napoli dopo appena 15 secondi avevo fatto il mio primo gol che è stata una cosa e napoletano una cosa inaspettata perché nessuno mi conosceva no e di lì è iniziata la mia storia diciamo così che è seguita ancora oggi in questa città grazie